eccoci qua eccoci tornati ragazzi nella scuola di italica finalmente siamo giunti al terzo anno serpeverde terzo anno come potete vedere in basso a sinistra oggi inizieranno le lezioni le prime lezioni del terzo anno so che ci abbiamo babbanologia quindi insomma andiamo subito a vedere di cosa si tratta insieme ragazzi ho saputo una cosa ho saputo che nel terzo anno ci sono ben tre incantesimi offensivi quindi ne vedremo delle belle quest'anno robe molto interessanti molto 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 lezione di aula di babbanologia ma che cazzo è questa aula di babbanologia scusatemi ragazzi qualcuno sa dov'è l'aula di babbanologia questa è l'aula di ricerca ma forse le altre scale saranno non credo non credo sia questa è chiusa è chiusa non si trova questa maledetta aula no guarda se dobbiamo girare per le scale a trovare la fottuta aula neanche qui ma dov'è st'aula ma dov'è chi ha detto che è qui scusate qualcuno l'abbia ma io non lo so sai non mi fiderei più di tanto di un griffondoro proviamo a salire ancora di più leggimio è qui è qui è qui andrei 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 andiamo a qualcuno si è spezzato le gambe nel mondo babbano quali mezzi utilizzano precisamente parleremo dell'automobile questo mezzo incredibile che l'uomo il babbano ha creato iniziamo bene velocemente da un luogo all'altro ovviamente non sarà mai come la smaterializzazione o una scopa volante avete domande babbanologia una in particolare al di fuori però della macchina si studieremo tutti gli oggetti che ci sono sul palco non penso ok uno non ce n'è bisogno soprattutto anche se dobbiamo dire la verità utilizziamo quel mezzo per smaterializzarci in vari posti tipo in inghilterra utilizzano cesso il bagno per materializzarsi all'interno del ministero della magia fortunatamente in italia abbiamo deciso un'altra via in quanto siamo persone molto pulite meno male avete dieci minuti di pausa ci vediamo qui alle 22 e 30 per fare la lezione di agguamenti se volete sgranchirvi le gambe mangiare qualcosa e quant'altro mi sembra uno di quei vecchi dei cantieri tipo chissà se ci si può sedere sopra certo lei è un bravo bene tutti quanti conoscete le classificazioni madre abbiamo studiato le so tutte io bene venturino mi dica allora cioè ne sono quattro ne sono c'è stata la sfigurazione che cos'è la trasfigurazione ma le portate le vise del turino che cos'è la trasfigurazione che ho chiesto e che ne so come che ne so nella classificazione madre viene spiegato e una una pratica continua che permette non me lo ricordo con le quattro nome aspetta fallo finire vai avanti intanto ti ricordi quello che c'è all'interno della trasfigurazione come sotto classificazione ma di uguale importanza anche se non considerata questa madre cosa comprende la trasfigurazione la detra la trasfigurazione molto bene poi le evo evocazione evocazione il contrario di evocazione qual è eva evacuazione ok tutto chiaro ragazzi fatta questa premessa questa grande premessa oggi pareremo agguamenti agguamenti è un incantesimo di trasfigurazione che evocherà delle molecole un getto d'acqua dalla bacchetta ed attinge il suo potere magico dall'elemento alchemico dell'acqua appunto l'acqua generata da agguamenti è dolce e a temperatura ambiente l'incanto però è molto violento essendo trasfigurato ad un fortissima pressione può essere utilizzabile quindi in duello esso riuscirà a danneggiare la parte superficiale della pelle del vostro avversario facciamo una piccola dimostrazione agguamenti professore mi scusi ho visto che che l'incanto è molto rapido e veloce questo dipende dalla potenza del mago come dire dall'abilità del mago è un incanto molto semplice baccalonga anche lei riuscirà subito a capire come come agire con agguamenti oh scusami baccalonga sotto i suoi piedi grazie professore mettiti in fila e ti do babbanologia qualcuno si è rotto le gambe di nuovo? ragazzi noi dovremmo avere la riunione se non sbaglio ciao ma chi è? io che ne so la se vede la leggenda che Alice ha ingorgiato il professore ieri diciamo che l'ho visto tra me ne ho sentito ho sentito si Alice ha letteralmente ingorgiato il professore facendolo e ha preso 10 e poi da dire e ingorgio riduccio ingorgio aia ma? reduscio professore aia ma come ha fatto? larghezza ma non si è capito questa sarà una riunione col morto buonasera dottore che è successo? salve dottore è così da oggi pomeriggio è morto? è morto probabilmente si l'ha passato ora professore butta la butta e butta la si riutilizza non vorrei che sia un fantoccio mio ah e ragazzi allora innanzitutto il primo punto da discutere oggi era sul quidditch come sapete stiamo già facendo la raccolta ai film e molti di voi l'hanno già rilasciata in bacheca e vi comunio che il capitano è Inferius Crucidus della nostra squadra mentre il vice capitano è lì di fronte Alex Wilde vieni qua Alex ah arrivo eccomi vice capitano bravo Alex io avrei una domanda riguardo al quidditch si dice pure come si fa ad entrare nella squadra? allora come ti ho indicato poco anzi faremo una data per le selezioni quindi ci incontreremo tutti quanti al campetto da quidditch faremo una prova pratica in base ai vostri ruoli i migliori entrano a fare parte della squadra l'unica cosa importante ragazzi che purtroppo per noleggiare la scopa ci fanno dieci galeoni quindi quando andremo lì purtroppo tra virgolette dovrete comunque ma io ho sentito che offre il vice capitano bravo questo fa cosa di sentire Mark no 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 non è vero ho detto prima come vi dico sempre quando siete vicino alla porta del dormitorio sussurrate alla parola non urlatela che tanto la porta ti sente lo stesso ho visto gente del terzo anno ancora che urlava come vedo come vedo molta gente come vedo molta gente fare le paternali e poi dopo un minuto fare il contrario di quello che dice se posso permettere buonasera ciao Isabel si ciao ciao che fai? stai a provare? no però la conosco che succede qui? ehi tu tutto ok? che succede? tutto bene si stavo cucinando del pollo tu considera che se prendiamo la carne di pollo e poi la bruciamo con red sparks ma tu ne hai due di di carne ne hai prese vogliamo provare? prova però fuori proviamo fuori vai red sparks prova no allora stava facendo qualcosa di losco oggi ci abbiamo teorie e pozioni storia della magia e ear shoveling ear shoveling vabbè un qualcosa di semine Milo? ho fatto un giro in foresta da solo prima ah temerario ho anche dei semi che non abbiamo mai visto guarda dei semi si è riuscito a trovare perché? eh ho avuto alto impegno oh interessante no no ieri cosa sia però ma ho sentito un sonoro però pare che era del secondo anno no noi siamo il terzo abbiamo fatto tanto per arrivarci lex porca miseria voi tornate indietro mi sono informato un po' sui incantissimi del terzo anno e ce ne sono addirittura tre offensivi sì Davut è uno Leverio e poi usare ieri contro Mark contro Mark ma tu non sai niente cosa è successo ieri? Mark si è scontrato con Nix Mark si è scontrato con Nix sì veramente sì e Nix l'ha colpito fino a schiantarlo c'era una certa Nix boh impazzito e ha cominciato a schiantarlo fino alla morte ma? fino all'agivenimento dei scienzi al terzo piano siete andati in libreria? sì cosa avete trovato? eh quasi la morte eh siete caduti nel camino? no ci sono dei ragni immensi al terzo piano ci sono dei ragni? immensi veramente grossi mai visti così grossi neanche in foresta ma che stai dicendo? ma quando sono andato io non c'era nulla ci hanno colpito a me Alex eh io voglio andare però questo ragno sicuramente sta nascondendo qualcosa oh ciao ragazzi venturino la toga oggi la toga che fanno? dai in sala grande in sala grande dai che sennò poi dopo ti danno le note o vi tolgono punti è bene è bene qual era la nuova parola Andre? eh abri babba devi babbo ha funzionato eh professore buonasera buongiorno professore oggi avete due lezioni da fare una è appunto quella di storia della magia bene per chi è nato nel mondo magico come è narrato nella storia dei tre fratelli delle fiabe di Beta il Bardo col tempo si dice che in verità i tre fratelli vengono associati a Antioch Peverel Cadmus Peverel e Ignotus Peverel questi tre fratelli stavano viaggiando tranquillamente per il mondo quando un giorno arrivarono a un fiume impetuoso che si sapeva aver preso moltissime vite che avevano cercato di attraversarlo i tre fratelli che erano dei bravissimi maghi estrassero le loro bacchette e crearono un ponte per poter attraversare il fiume poco dopo essere saliti sul ponte incrociarono una figura incappucciata che bloccava il loro sentiero la losca figura non era altro che la morte in persona che era oltreggiata di non aver potuto prendere delle nuove vittime ma la morte era furba e non perse l'occasione di presentarsi da loro per congratularsi chiese che ognuno di loro doveva ottenere un regalo il primo fratello essendo il più grande e il più vanitoso chiese alla morte una bacchetta che potesse vincere qualsiasi duello una bacchetta meritevole per un uomo che aveva sconfitto la morte così la morte andò da un alvaro vicino un sambugo spezzò un ramo e da esso ne creò una bacchetta bellissima sì è arrivata la coordinatrice dov'è? bene molto bene si è spadalizzato da esso ne creò una bacchetta bellissima buonasera 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 ne creò una bacchetta bellissima buonasera 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 una bacchetta bellissima di 15 pollici e con il suo interno il crin di un testral diede la bacchetta al primo fratello Antioch Peverell e gli promise che possedeva tutte le qualità che lui aveva chiesto che era la più potente bacchetta nel mondo e che combattendo con quella non avrebbe mai perso il secondo fratello Cadmus Peverell volle umiliare la morte ancora di più e le chiese qualcosa che fosse in grado di riportare in vita i propri cari al che la morte raccolse una pietra dal fiume e gliela consegnò dicendo che era la pietra della resurrezione il terzo fratello il terzo fratello ignotus Peverell il più umile del tre chiese alla morte qualcosa che gli permettesse e le avrebbe consentito di andarsene senza essere visto da lei motivo per il cui la morte gli consegnò un pezzo del proprio mantello creando così il mantello dell'invisibilità quindi esaudì i tre desideri e si fece da parte per permettere ai tre fratelli di proseguire il loro viaggio è probabile che da questo punto i fratelli si separarono per proseguire ognuno verso la propria strada la leggenda si conclude ma in realtà il primo fratello che poco dopo aver ricevuto il dono della bacchetta duellò con un mago e lo sconfisse quindi andò a ubriacarsi a raccontare a tutti degli straordinari poteri che possedeva la sua arma fu ucciso nel sonno lo stesso giorno da un mago sconosciuto che si impossessò della sua bacchetta il secondo usò il dono nel disperato tentativo di riportare in vita la sua amata ce la fece ma ottenne solo la compagnia di una specie di fantasma che non apparteneva del tutto nel mondo dei vivi diventato poazzo per la sua incapacità di ridarle la vita si uccise e il secondo fratello andò dalla morte il terzo visse una vita lunga e finalmente quando era pronto si tolse il mantello per andare volentieri con la morte incontrandola come se fosse una vecchia amica infine si narra che chi possegga i tre doni della morte diventi il padrone della morte il padrone il padrone e il padrone e il padrone